E' stata aperta nel comune di Buccino la prima sede della provincia di Salerno della Guardia Nazionale Ambientale, una notizia comunicata con entusiasmo dal dirigente provinciale Antonio D'Acunto, che assicura impegno per contrastare le inefficienze e le precarietà che riguardano i mezzi di salvaguardia dell'ambiente. Il dirigente provinciale annuncia inoltre che a breve saranno organizzati corsi di formazione nelle scuole per sensibilizzare ed educare i giovani al rispetto alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale. Inoltre sarà attente e costante la vigilanza per reprimere i reati ambientali nel nostro territorio. Chiunque può entrare a far parte del corpo delle guardie ambientali, tra i requisiti richiesti, oltre quelli previsti dalla legge, anche la maggiore età.